Ciao, ciao! Che spesa è il fatto! E tu? Sei già qui? Prendo solo una merendina e vado! Quante merendine mangia sto ragazzo? Anche il mio! Per questo è importante scegliere quelle giuste, come questa! Brios Ferrero Frutta e Cereali Tutta la semplicità di grano, cereali e la bontà naturale della marmellata di frutta E poi? È anche conveniente! Brios Ferrero Frutta e Cereali Nutre bene con la sua semplicità Anche su Brios Ferrero trovi i punti regalissimi 95 Grazie!